benvenuti a questa edizione di tris sicilia tg come sempre prima di partire con le notizie di oggi diamo uno sguardo ai titoli principali sanità e acqua e rifiuti in sicilia nominati i nuovi dirigenti generali ad interim all'asp di catania la morte di renzo formosa al responsabile pena ridotta in corte d'appello a catania sequestrato carburante pericoloso dalla guardia di finanza oltre 2000 litri di gasolio tra gela e niscente bruciata la discarica di bello lampo a palermo adesso incombe la paura di ossina tra gli abitanti questi titoli di oggi partiamo subito con il telegiornale straordinariamente dr 5.0 unica a 17.900 euro grazie al super bonus trottamazione valido su tutta la gamma dr corre in concessionaria nova auto concessionaria evo e dr via elorina 130 siracusa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ma sono le caratteristiche che contraddistinguono fisio nam medical center una struttura polidiagnostica con più di dieci anni di esperienza specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni andyou all'avanguardia il sistema di risonanza magna Yeti open amarque 5.000 rappresenta la nuova generazione di risonanze magnetiche a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, sedie operative a Siracusa in via Franca Maria Gianni 64 e a Modica al centro commerciale La Fortezza. Rieccoci in studio, bentornati e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di oggi. Come avete ascoltato dai titoli di apertura parliamo iniziando il telegiornale di sanità in Sicilia perché sono stati nominati i nuovi direttori generali, notizia che abbiamo già anticipato nelle edizioni di ieri sera. Come previsto sono stati confermati tutti gli attuali commissari straordinari. Invece va ad interim di Catania. Servizio d'apertura. Via libera del governo regionale al conferimento degli incarichi di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario in Sicilia. È stato approvato pure il nuovo schema di contratto dei manager che prevede per volere del Presidente della Regione Renato Schifani obiettivi specifici e concreti specialmente sulla riduzione delle liste d'attesa con un monitoraggio trimestrale e una verifica annuale del raggiungimento degli stessi appena di decadenza automatica dei direttori generali anche dopo il primo anno dall'insediamento. La giunta su proposta dell'assessore alla salute Giovanna Volo ha confermato nei ruoli i già commissari straordinari ad eccezione di quello dell'ASPE di Catania Giuseppe Laganga Senzio coinvolto recentemente nell'indagine sulla questione del centro clinico privato messinese Nemo Sud. La continuità gestionale sarà assicurata dal direttore sanitario dell'azienda provinciale TNE Antonio Rapisarda così come previsto dalla legge. Successivamente si procederà alla nomina dell'organo ordinario dell'ASPE di Catania. Questi i nomi e le destinazioni dei nuovi direttori generali designati nelle aziende sanitarie provinciali. Daniela Faraoni va all'ASPE di Palermo, Giuseppe Cucci all'ASPE di Messina, Giuseppe Capodieci all'ASPE di Agrigento, Salvatore Lucio Ficarra all'ASPE di Caltanissetta, Mario Carmelo Zappia all'ASPE di Enna, Giuseppe Drago all'ASPE di Ragusa, Alessandro Caltagirone all'ASPE di Siracusa, Ferdinando Croce all'ASPE di Trapani. Entro 15 giorni dalla firma dei contratti i nuovi manager dovranno procedere alla nomina dei direttori sanitari e amministrativi, già selezionati dalla Regione. In merito al nuovo schema di contratto è previsto che entro 30 giorni dall'insediamento i direttori generali predispongano un apposito piano operativo di governo e di recupero delle liste d'attesa che dovrà essere approvato dall'assessorato alla salute. Tra le novità anche il necessario conseguimento del 100% delle azioni previste dal cronoprogramma del piano operativo regionale della missione 6 salute del PNRR. E a proposito di nuovi dirigenti, la Regione ha nominato anche il dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, si tratta del messinese che vedete nella foto, Arturo Vallone. E Arturo Vallone, il nuovo dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei rifiuti, su proposta dell'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità Roberto Di Mauro, la Giunta regionale ha approvato la sua nomina. La scelta di Vallone è avvenuta al termine di una selezione con avviso pubblico alla quale hanno partecipato oltre 40 candidati. Originario di Francavilla di Sicilia, nel messinese, commercialista cinquantenne, ricopre dal 2017 l'incarico di dirigente del settore ambiente della società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti dell'area metropolitana di Messina. Ruolo delicatissimo quello di Arturo Vallone, viste le tante emergenze che riguardano il settore della gestione dei rifiuti in Sicilia, pentole con acqua bollente un po' ovunque, in provincia di Siracusa e Lentini, una delle piazze più calde. L'amministrazione comunale non demorde e continua a battere cassa. Nonostante le reiterate rivendicazioni nel 2017 e nel 2019, il Comune non è mai riuscito infatti a incassare un solo centesimo di risarcimento per l'inevitabile impatto ambientale determinato dalla presenza sul proprio territorio della discarica privata più grande dell'isola, quella della Sicula Trasporti di Contrada Grotte San Giorgio, negli anni scorsi finita sotto la lente di ingrandimento della magistratura nell'ambito dell'inchiesta Mazzetta Sicula. Eppure una legge regionale del 2010, finora disattesa, prevede specifiche misure compensative per i comuni sui cui territori sorgono impianti di recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani. Sono i cosiddetti oneri di mitigazione ambientale. Negli anni scorsi l'amministrazione comunale ha diffidato e messo in mora Sicula Trasporti e Regione Siciliana e dal 2021 un procedimento giudiziario è pendente dinanzi al Tribunale di Catania. Lo scorso gennaio il giudice Venera Condorelli ha disposto che un consulente tecnico d'ufficio accerti la somma aspettante al Comune di Lentini a titolo di oneri di mitigazione ambientale da parte della Sicula Trasporti sulla scorta della documentazione per gli anni dal 2010 al 2020. Da parte sua l'amministrazione comunale ha deciso di tutelarsi nominando un consulente tecnico di parte che quantifichi l'esatto ammontare del risarcimento. Cambiamo argomento. Brucia nella notte la discarica di Bello Lampo a Palermo e non è la prima volta che succede. Le fiamme sono state alimentate da un forte vento di scirocco. Torna così però tra gli abitanti la paura di diossina. Bruciata per tutta la notte la discarica di Bello Lampo nel Comune di Palermo. Le fiamme sono state alimentate dal vento di scirocco. Come capita negli ultimi anni con il caldo e il vento l'impianto va a fuoco. Dopo una lunga notte sono rimasti attivi alcuni piccoli focolai che sono sotto controllo e che vengono gestiti da alcune squadre dei vigili del fuoco per evitare che possa ripartire il rogo. Sono state impegnate almeno sei squadre nel corso della notte. Le fiamme da una prima ricostruzione hanno interessato la telatura di una vasca in fase di riempimento. L'incendio è divampato esattamente nella vasca 7 della discarica di Bello Lampo, quella in uso. Ieri sera è stato avvistato da Rapp un incendio su una scarpata di rifiuti. L'azienda è subito intervenuta con i mezzi di movimento terra disponibili. Le fiamme si sono però sviluppate, complice un vento da sud-est. L'incendio della scarpata di rifiuti è ora contenuto con la terra smossa da escavatori e boom-meg di Rapp, oltre che dall'acqua delle lance dei pompieri. Il vento spira verso Capaci, ove è arrivato l'odore acre di bruciato. Il sindaco è stato invitato a emettere ordinanza a salvaguardia della popolazione. Per orari e modalità si propende per una chiara origine dolosa. Lo scorso anno il rogo provocò l'allarme di ossina. L'incendio provocò la formazione di gas tossici che furono trovati a chilometri di distanza dall'impianto. Sono già al lavoro i tecnici dell'ARPA e i vigili del fuoco per la valutazione dell'aria nella zona della discarica, anche nei quartieri prossimi agli impianti e ai comuni di Capaci, Isola delle Femmine e Torretta. La vicenda del giovane, giovanissimo Renzo Formosa, che perso la vita a causa di un incidente stradale dove ci sono state delle sentenze, una prima udienza e ieri la sentenza della Corte di Appello sul caso della morte del giovane. Per il responsabile dell'incidente mortale la pena è stata ridotta a due anni e quattro mesi. Vediamo il servizio. È stata una delusione immensa e che i nostri figli non sono tutelati da nessuno. Sono le parole di Lucia, mamma di Renzo Formosa, ucciso il 21 aprile del 2017 da un'auto in corsa senza assicurazione guidata dal siracusano Santo Salerno in via Bartolomeo Cannizzo, mentre il piccolo Renzo, di 15 anni, faceva rientro a casa dalla sua mamma. Sette lunghi anni di processi, richieste di patteggiamento e ieri la sentenza emessa dalla Corte d'Appello nei confronti del responsabile dell'incidente mortale, sentenza che riduce il verdetto di primo grado emesso a luglio del 2020 che condannava l'imputato Santo Salerno a quattro anni. Ma dal Tribunale di Catania, la Camera del Consiglio della Corte d'Appello ha riformato la sentenza, riducendo la pena inflitta nei suoi confronti a due anni e quattro mesi di reclusione, ridotta per il rito abbreviato. Purtroppo non ci sono pene, questa è l'evidenza. Siamo stati sette anni, sette lunghi anni a fare viaggi dal Tribunale, per poi, dopo tutto l'iter che c'è stato, patteggiamenti rigettati, alla fine è stato semplicemente premiato, questa persona è stata premiata per quello che ha fatto. La difesa dell'impuntato per il reato da lui commesso aveva chiesto anche la piena assoluzione. Notizia della pena ridotta che ha lasciato di stucco i familiari di Renzo Formosa. Queste le parole della mamma di Renzo sui social che fino ad oggi non ha visto una vera giustizia esemplare da parte delle istituzioni per la morte del figlio Renzo. Intanto sono senza parole, ti puoi immaginare come sto, quindi sono in condizioni che non so spiegare. È l'ennesima autorizzazione per tutti quelli che nella strada continuano a fare violenza stradale, perché per cambiare le leggi per quanto riguarda l'omicidio stradale vedo che c'è proprio una strafottenza già dalle istituzioni. Torniamo alle altre notizie di cronaca. Oltre 22 mila litri di gasolio pericoloso sono stati sequestrati tra Gela e Niscemi dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, svolta in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane. L'operazione mirava a scongiurare la circolazione di carburante adulterato con oli vegetali esausti. Sentiamo Silvio Breci. Oltre 22 mila litri di gasolio pericoloso sono stati sequestrati tra Gela e Niscemi dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell'ambito di una vasta operazione svolta in collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane. Scongiurare la circolazione di carburante adulterato con solventi, ovvero mescolato con oli vegetali esausti, l'obiettivo dei controlli che sono stati eseguiti con il supporto del Laboratorio Mobile e del Laboratorio Chimico di Palermo dell'Agenzia delle Dogane. Uno degli illeciti più diffusi è infatti quello della miscelazione abusiva di prodotti energetici. Nel corso dei controlli effettuati con la partecipazione dei militari del gruppo di Gela e dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Porto Empedocle sono stati prelevati campioni di idrocarburo dai serbatoi per accertarne il punto di infiammabilità. Le analisi hanno confermato la non conformità del gasolio alle previste specifiche commerciali, in particolare il punto di infiammabilità del gasolio che non deve essere inferiore ai 55 gradi in modo da minimizzare il rischio della formazione di miscele infiammabili nei depositi di stoccaggio è risultato inferiore ai 40 gradi. Oltre al sequestro del gasolio non a norma, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Gela due soggetti responsabili del reato di frode nell'esercizio del commercio. Per contrastare le frodi ogni anno in Italia l'Agenzia delle Dogane, dei Monopoli e la Guardia di Finanza effettuano migliaia di controlli sui carburanti prelevati nei distributori stradali e nei depositi commerciali e fiscali per accertarne la conformità. Un prodotto di scarsa qualità infatti pur non generando da subito anomalie di funzionamento delle autovetture produce nell'uso prolungato effetti negativi sugli ingranaggi dei motori e accresce le emissioni di gas e di scarico oltre i normali limiti previsti dalle normative europee a tutela dell'ambiente. Ancora cronaca, quartiere San Berillo, Puscher arrestato dalla Polizia per detenzione di droga ai fini di spaccio. Sentiamo Fabiana Bianca. Un servizio straordinario di controllo congiunto fra carabinieri e polizia, visto l'arresto di un 32enne senegalese per detenzione di droga ai fini di spaccio e possesso di arma abusiva. Nel quartiere San Berillo di Catania, dopo aver chiuso le vie di fuga, quindi via Reggio, via Pistone e via delle Finanze, da via Buda sono sopraggiunti i poliziotti con in testa il cane antidroga Maui. Un uomo alla vista del cane antidroga si è disfatto di svariati involucri estraendoli dal marsupio indossato a tracolla, gettandoli per terra. Dopodiché il suo tentativo di allontanamento che è stato vanificato dall'efficace cinturazione delle vie. A quel punto sono stati prontamente recuperati i due panetti di hashish, di cui uno riportante la nota marca Nutella e un altro la scritta donna, del peso di 83,90 grammi. Oltre a ciò sono stati sequestrati a suo carico anche due involucri contenenti 45 grammi di marihuana all'interno del marsupio ancora 14 involucri di crack del peso di 2,74 grammi. Una perquisizione domiciliare ha inchiodato l'uomo di fronte alle sue responsabilità. Nel bagno infatti ancora droga. All'interno di un bidone è stata scoperta una busta contenente 450 grammi di marihuana, oltre a carta stagnola, un bilaccino elettronico e anche dei coltelli. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato. All'interno dell'autovettura del 32enne i poliziotti hanno anche ritrovato un macete di 47 centimetri e 25 centimetri di lama, arma che è stata sequestrata per cui il soggetto è stato denunciato anche per detenzione abusiva di arma. Il servizio complessivo condotto a San Berillo dalle forze dell'ordine ha portato al rinvenimento di altri quantitativi di droga nascosta fra le vie pronta per essere venduta. Siamo alle porte dell'estate, ormai come ogni anno è iniziata l'operazione Mare e Laghi Sicuri 2024 ad opera della Guardia Costiera. Alla Capitaneria di Porto, tutte le Capitanerie di Porto della Sicilia orientale svolgeranno un'attività cabillare lungo la costa che è lunga oltre 650 chilometri. Vediamo. Anche quest'anno il corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, è impegnato nell'operazione denominata Mare e Laghi Sicuri 2024 con l'incremento capillare delle attività di vigilanza e controllo nell'ambito delle competenze di Polizia Marittima e di Soccorso Marittimo del Corpo. Fino al 15 settembre la Guardia Costiera della Sicilia orientale con impiego delle unità delle Capitanerie di Porto lungo gli oltre 650 chilometri di coste di competenza della Direzione Marittima di Catania con un'opera di prevenzione intende assicurare lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività ludico-ricreative e commerciali e in particolare promuovere nei confronti dei fruitori la cultura del mare, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ecosistema e della biodiversità marina. L'operazione ha come focus la prevenzione, chiave di volta per ridurre le situazioni di pericolo in mare, soprattutto nei confronti dei più giovani con lo scopo di diffondere una maggiore consapevolezza dell'importanza di comportamenti responsabili. Nella stagione estiva appena iniziata sono stati già diversi i soccorsi che la Guardia Costiera ha prestato a decine di diportisti, molti dei quali evitabili se si fossero tenuti comportamenti più responsabili. I diportisti potranno inoltre contare sul rilascio del bollino blu che permetterà loro di vivere il mare e anche i laghi più serenamente, evitando una duplicazione dei controlli in materia di sicurezza. Le coste saranno sorvegliate giornalmente per garantire la sicurezza in mare da circa 45 mezzi navali dislocati lungo i porti della Sicilia orientale. Da segnalare infine la sinergia con molte amministrazioni comunali riverasche dei molteplici ambiti di interazione tra le attività turistico-balneari, con particolare riferimento alla sicurezza delle spiagge di libero accesso. Una notizia di calcio prima di concludere il campionato di Serie D al quale parteciperà pure il Siracusa prenderà il via il prossimo 8 settembre, lo ha comunicato ufficialmente il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale di Lettanti. Due domeniche prima, esattamente il 25 agosto, si inizierà a giocare per la Coppa Italia. È la notizia che chiudeva questa edizione del telegiornale. Grazie per averci seguito.